allora ragazzi oggi siamo al podere come avete visto e niente siamo qua nel pollaio ora apriamo le galline e guardiamo un po' come stanno allora oggi è una giornata ragazzi non bella un po nebbiosa unida ok 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 ragazzi ora gli diamo da mangiare e niente ragazzi gli diamo un po da mangiare le chiamiamo ok vai ragazzi ora gli diamo un po da mangiare un po' più chiamiamo un po' più chiamiamo un po' più Ok, vai Allora Quello che ho lanciato qua L'avevo lanciato tutto e mangiato Ok Ora continuiamo a dargliele un po' Almeno per tutto il giorno Ce l'hanno Ok Vai ragazzi Guardate qua che bello che è sto gallo A me piace un sacco E niente ragazzi Oggi non l'abbiamo aperte sul recinto sopra Perché non lo so E Qua c'è il tacchino ragazzi Ragazzi Ok Ci sono Allora Oggi siamo qua nel potere E niente Ora daremo Il radicchio Alle galline Paglie di radicchio E niente Anche un po' di finocchio Prima me lo mangio Poi con le cose da scarso Ce le buttiamo Ok E niente ragazzi Guardate qua come lo mangiano Avete visto quella Ora li chiamiamo Pili 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 Ma l'altra Li piace Ok Dai ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate un bel like Un super grazie E ragazzi A un prossimo video Ciao raga Ciao